Giovanna, allora pronti con lo stand a pochi minuti dalla partenza, le sensazioni proprio a ridosso dell'inizio della gara? Bellissime sensazioni perché questa atmosfera di festa e di competitività è bello e per noi oggi è andata molto bene perché abbiamo allestito il banchetto e nel giro di un'ora, un'ora e mezza abbiamo fatto oltre 12 dichiarazioni di volontà che non è poco per il gruppo comunale di Agnone. Non è poco, vi aspettate almeno altrettanto alla fine della gara? Speriamo di sì, speriamo che la gente si avvicini per chiedere informazioni e per dichiarare la propria volontà a donare gli organi e quindi compilare il modulo di adesione.